Questo atteggiamento che voi avete di totale assenza di pensiero, di ragionamento e di comprensione del sistema, oltre ad andare a vostro svantaggio, va a svantaggio di tutta la comunità, di tutti i musicisti, di tutte le persone che fanno musica. Perché? Perché finché ci saranno stronzi che continueranno ad utilizzare, perché ovviamente sono vittime del proprio ego, della propria ignoranza, determinati meccanismi, il sistema non cambia. Novità dal mondo del music business, quindi oggi parliamo appunto di business, di streaming, di piattaforme digitali e chi ne ha più ne mette. Ma lasciatemi che vi lega questa breve introduzione fatta dal UK Parliament, ok, rispetto al tema streaming. Mentre a breve termine la struttura dei prezzi del settore e la disponibilità gratuita della musica può essere vista come un buon affare per gli amanti della musica, quindi gli listener, gli ascoltatori. Il pericolo è senza che migliori e maggiori livelli di entrate, in favore degli artisti e di chi la musica la produce, ovviamente, parte della musica che gli ascoltatori amano potrebbero non essere più prodotta e realizzata nei prossimi dieci anni. Guarda caso, dicevo, la stessa cosa in un video che non avete ancora visto e che vedrete prossimamente. Cosa sarà il mondo della musica tra dieci anni? Tra dodici anni? Nonostante il boom dello streaming, che ha fornito una parziale ripresa economica per l'industria musicale, non tutte le parti interessate hanno ricevuto benefici proporzionati. In molti casi le aziende hanno sfruttato vantaggi strutturali per raggiungere posizioni apparentemente inattaccabili nei rispettivi mercati. I servizi streaming, che ospitano contenuti generati dagli utenti, UGC, quindi User Generated Content, presentano vantaggi significativi rispetto ad altri servizi a causa dei porti sicuri relativi alle normative copyright, che hanno portato, ad esempio, al predominio di servizi come YouTube. C'è stato detto che le principali società musicali hanno registrato margini di profitto storici e continuano a consolidare la loro posizione di proprietà e leadership grazie alle risorse acquisite a livello di registrazione, catalogo e diritti. E attraverso fusione, acquisizione e integrazione di tutti questi asset con gli aspetti del business della musica digitale. Queste sono parole non di Music Business Italia, che vi insegna qualcosa a voi capri che utilizzate tutti questi sistemi che streaming, piattaforme che non conoscete, ok? Il governo britannico e non solo, oggi lo vedremo. Nel frattempo artisti, cantautori e compositori ricevono solo una piccola parte delle entrate a causa degli scarsi tassi di royalty e della valutazione delle proprietà relative a composizione e proprietà master, ok? Io qua ho dovuto tradurre in questo modo perché il trafiletto originale era devaluation of songwriting and composing relative to the recording, ok? Quindi era un po' più per addetto ai lavori. Sebbene questi problemi siano antecedenti alla pandemia, ciò che è stato aggravato è messo in netto rilievo dalla retrocessione del comparto live, che continua ad avere un impatto sull'ecosistema e sulla sostenibilità, ovviamente, degli artisti. Una scarsa remunerazione rischia di disincentivare i musicisti professionisti di successo e diminuire le capacità del Regno Unito di supportare nuovi talenti nazionali. Raccomandiamo una gamma ampia ma completa di riforme legislative e interventi normativi per affrontare questi problemi. Al fine di affrontare la remunerazione degli artisti e la disparità di protere tra creatori e aziende, raccomandiamo che il Governo introduca il diritto di un'equa remunerazione della musica digitale, il diritto di riconquistare i diritti sulle opere dopo un periodo di tempo e il diritto all'adeguamento del contratto se le loro opere hanno successo oltre la remunerazione che ricevono. Rileggetelo se non l'avete capito. Siamo profondamente preoccupati per la posizione delle principali compagnie musicali e chiediamo al Governo di sostenere il settore indipendente e di chiedere consiglio all'autorità per la concorrenza, che ha fatto tra l'altro un bellissimo report di 150 pagine che ci ho messo due mesi e mezzo a studiare, e i mercati in merito all'eventuale distorsione della concorrenza nel mercato della musica registrata. Infatti potete cercare la CMA, che è praticamente la Competition and Markets Authority, cioè l'autorità che si deve raccomandare di controllare la competizione all'interno dei mercati, ha fatto un report estremamente dettagliato. Andiamo avanti. Consigliamo inoltre al Governo di normalizzare in modo proattivo i requisiti sui servizi di streaming sia all'interno del mercato dello streaming che con altre modalità di consumo di musica, imponendo maggiori obblighi di licenza sui servizi di hosting degli user-generated content, quindi dei contenuti generati dagli utenti, rendendo a prova di futuro il regime di preeminenza del servizio pubblico di trasmissione e affrontando il sistema PAIOLA e le preoccupazioni relative ad algoritmi e curatori di playlist. Ora, so che magari tanti di voi non sanno che cos'è il PAIOLA, quindi è un meccanismo, ve lo dico in breve, praticamente è un meccanismo utilizzato dall'industria e da alcune aziende che si occupano di discografia e le subaziende, che di base è come il pay-to-play, cioè cosa fanno? Comprano spazi web, spazi radio, spazi streaming per praticamente andare a abbattere la competizione, abbattere appunto pagando degli spazi e quindi facendo fondamentalmente passare ciò che vogliono loro, ok? Ora, detto veramente in termini beceri, non ricordo se... questa è solo l'introduzione, ok? Ora, logicamente potrete trovare tutto il report analitico, anche quello della CMA, pubblicamente. Io vi invito a sforzarvi di leggere queste cose, perché al contrario fate la fine veramente degli stronzi e io lo dico in modo molto, molto aggressivo, perché rimango veramente basito dell'ignoranza che continua a esserci su questo tipo e tipologia di tematiche, quindi legate allo streaming, al mondo digitale, ma soprattutto una cosa che Music Business Italia ci tiene a dire con forza è che se non siamo in grado di conoscere e riconoscere i meccanismi di determinati comparti e di determinati, scusate, meccanismi di funzionamento, sto maledetto telefono, ok? Chiudo. Fate veramente la fine proprio dei polli, perché voi viaggiate nell'ignoranza più assoluta. Io so che quasi certamente al 95,9%, anzi facciamo al 99%, tu che mi stai guardando adesso avrai la tua minchia di musica su questi servizi, non hai idea di come funzionino, non hai idea di cosa è successo dal punto di vista proprio di evoluzione discografica, ma nonostante questo continui a tentare delle vie su quel tipo di business model, quindi utilizzando un certo tipo di canali che hanno un certo tipo di business model per trovare la tua benedetta sostenibilità. Noi ovviamente che il più delle volte veniamo presi per, io vengo preso per troppo aggressivo, per estremista, no? Tutte queste cose qua, oppure appunto l'ennesimo, no? C'è chi mi dice è arrivato l'ennesimo guru di Staceppa, eccetera, eccetera, in realtà sono una persona che studia, che deve capire necessariamente facendo parte di questo settore che tipo di modelli ci sono in atto, ma perché? Perché se si vuole cambiare sistemi, e con fatica MBI sta portando non solo informazioni di enorme impatto e valore, ma anche risultati, perché abbiamo persone che grazie a tutta una serie di ragionamenti, tutta una serie di percorsi che facciamo, dove vengono affrontate anche questo genere di tematiche in modo accurato e approfondito, perché cosa? Per capire da chi stare alla larga, ma soprattutto come utilizzare determinati modelli, se si vuole utilizzare determinati modelli in proprio favore, perché sennò voi siete veramente degli stronzi che continuano ad essere spremuti dall'industria, dall'industria da cui voi tanto cercate una benedetta sostenibilità non capendo come funziona, e fate il giro del criceto, che quindi voi producete la vostra musica, la regalate a dei business model che non comprendete, quei business model fatturano e guadagnano, ok, rispetto al vostro lavoro e a chi fruirà anche di quel lavoro, quindi hanno una clientela bilaterale, e continuate in giro del criceto e magari in questo giro del criceto ci mettete pure ovviamente soldi per promozione, per posizionamento, per tutto quello che riguarda questo genere di cose. Ora, qual è un aspetto interessante che personalmente abbiamo proceduralizzato nel tempo e che è complesso, che quindi è qualcosa di anche molto difficile da spiegare, però uno, a mio parere, dei problemi, scusate se vi insulto ragazzi, però vi serve prendere un po' di sberloni ogni tanto, uno dei problemi di quest'industria è un problema che noi chiamiamo il problema di natura educativa, cioè cosa vuol dire? che l'industria si è costruita negli anni e nel tempo proprio con una catena, ok, quindi cosa vuol dire? Che l'artista produceva la sua musica, il suo prodotto, ok, il prodotto per le pulizie e fondamentalmente, per farvela breve, il circuito che poi commercializzava quel prodotto faceva impresa sul prodotto stesso, quindi voi dovete immaginarvi che è quello che succede anche oggi, voi cosa fate? Voi fate la vostra musica, pagate ovviamente la produzione nella speranza di fare lavori fatti come si deve e quindi che cosa succede? che avete magari ingaggiato una persona che vi aiuta nella scrittura, nella composizione, allora va a parte dei diritti, quindi poi, per farvela breve, c'è qualcuno che vi registrerà quella musica e quindi la farà finire su un determinato supporto, che sia digitale o fisico o quello che è, a quel punto quel dato supporto viene messo nelle mani, facciamo finta digitale, di un aggregatore che poi lo butta su delle piattaforme oppure al contrario, avete un deal distributivo con una particolare società che fa capo magari, ok? E fondamentalmente che cosa succede? Che è il problema di oggi? Che in questa catena, ok? È una catena dove ognuno ci mangia qualcosa in ogni passaggio, quindi arrivati alla fine, praticamente l'artista o chi fa musica, che cos'è? È quello che il bene lo produce, poi tutti ne mangiano un pezzettino mentre questo prodotto se ne va e voi immaginatevi che questo si trasforma e si diventa orizzontale, esce, fa il giro e indovinate dove poi torna? Oh! Ok? Quindi, uno degli aspetti che non entro nei dettagli perché sono delle cose che personalmente adesso non voglio dare soluzioni gratuite, sinceramente, ma una delle cose che noi abbiamo capito studiando i modelli, ok, di business e adottando delle metodologie che potremmo definire sperimentali, ok, di scissione, ok, questo meccanismo lo puoi fondamentalmente inculare, ok? Cioè, cosa vuol dire? Che se voi ci pensate, infatti non è un caso che la CMA ha, voglio dire, pensato, cioè, analizzato, prendendo questo da una diversa prospettiva e problematica, che se ci fosse scissione tra i vari ambiti, quindi voi immaginatevi, ok, si parla di produrre la musica, bene, la produzione della musica viene regolamentata in un box, si parla di publishing, ok, di tutto quello che riguarda la distribuzione, commercializzazione, eccetera, bene, è un altro box che è completamente separato, no? E logicamente in questi box separati, ok, quindi immaginatevi anche il fruttore finale vuole un certo tipo di prodotto, vuole un certo tipo di possibilità di ascoltare su supporto fisico, digitale, eccetera, è un comparto a blocco stagno separato, che deve essere poi regolamentato da accordi che fanno, tra virgolette, non so come dire, Da ponte, e qui le persone potrebbero dire beh, ma esattamente quello che succede, perché se io vado da un aggregatore e faccio il contratto con un aggregatore, firmando, senza neanche sapere cosa sto facendo, così poi la musica finisce sulle piattaforme streaming e poi le piattaforme streaming mi danno, no, non è così, non è così, perché tu diventi il primo anello della catena e il primo a prenderlo nel... ok, invece al contrario bisognerebbe ragionare a comparti separati, nonché, permettetemi di dire, imparare a ragionare a livelli imprenditoriali, quindi capire il meccanismo di cui si fa parte, ok, molto importante, e soprattutto ragionare in quale termine, in un termine realmente indipendente. Cioè, cosa vuol dire? Nel momento in cui io capisco come funzionano determinati modelli e approfondisco bene questo discorso, capisco in che modo loro vanno a intercettare un dato mercato e una data utenza, quindi un dato target. E una volta che io ho capito qual è la modalità con cui l'interazione, lo scambio economico avviene tra il modello e il target, che è quello che succede in qualsiasi mercato, ma in quello della musica, essendo guidato dalle emozioni, no? Essendo guidato da il mio lavoro, la mia musica, il mio... Ok, queste cose egoiche dove fondamentalmente siete... Io mi dispiace essere così cattivo, però veramente siete proprio vulnerabili, perché non capite, purtroppo ignorate, siete ignoranti, nel senso che ignorate come funzionano determinate cose, non vi preoccupate di studiare, quindi che cosa succede? Che siete estremamente vulnerabili all'interno di un sistema che fondamentalmente espreme tutti quanti. Ti hai compreso? E allora, perché non tagliare i ponti? Perché non crearsi un sistema proprio, visto che abbiamo tutti quanti, te compreso, gli strumenti per poterlo fare? Logicamente parliamo a persone che vogliono fare musica di professione, quindi professione uguale rendita continuativa. Diversificazione anche, cosa credete? Che di campare vendendo i vostri vinili? Pensate di campare, peggio ancora, ok, con streaming o cose di questo tipo? pensate di campare solo con i concerti? Ragazzi, bisogna svegliarsi, cioè dovete veramente svegliarvi, ma io lo dico perché da ormai anni stiamo combattendo questa battaglia educativa, perché è una battaglia educativa, cioè finché le persone non capiscono determinati meccanismi, non cambierà un cazzo, ok? E la cosa che a me inquieta di questo e che mi dà l'energia di continuare anche a essere offensivo nei vostri confronti è che questo atteggiamento che voi avete di totale assenza di pensiero, di ragionamento e di comprensione del sistema oltre ad andare a vostro svantaggio va a svantaggio di tutta la comunità, di tutti i musicisti, di tutte le persone che fanno musica, perché? Perché finché ci saranno stronzi che continueranno ad utilizzare, perché ovviamente sono vittime del proprio ego, della propria ignoranza, determinati meccanismi, il sistema non cambia. Ma ripeto, ma ve lo deve dire Michele di Music Business Italia, cioè ti ripeto, so come dire, anche l'organo di commissione del Parlamento Britannico che ovviamente ci tiene un po' di più, perché hanno un comparto dedicato ovviamente a quello che riguarda gli aspetti culturali e la tutela, ok? degli aspetti culturali e sociali di un determinato paese e territorio, cosa che in Italia lasciamo perdere, le barzellette, è un problema, cioè è un problema, perché se voi non vi imprenditorializzate e se non iniziamo a cambiare modelli, poi voi direte, beh ma cazzo, è Star Wars praticamente, è utopia, ma io ci credo, perché prima o poi ne educhiamo uno, ne educhiamo due, ne educhiamo dieci, ne educhiamo cento, ne educhiamo duecento, come sta succedendo, piano piano, ma noi abbiamo tanta pazienza, se riusciamo a vivere ovviamente e sopravvivere, perché si sa mai, esco da qua, sai tu, magari mi investe il tram, è fine della storia, cambieremo questo sistema, ma il tuo menefreghismo del cazzo rovina rovina veramente la musica, l'arte, rovina la possibilità ad altre persone di fare un certo tipo di, o di avere un certo tipo di attenzione artistica, perché è quello che succede, non capendo queste cose, cosa sarà la musica tra dieci anni? Quindi vi ripeto, noi combattiamo questa battaglia e permettetevi di dirvi anche questo, visto che faremo un evento a Milano il 20 giugno, ok, in uno spazio produttivo, è un evento privato e visto che avevamo un po' di inviti privati che potevamo sfruttare, perché questo evento è pensato per l'utenza di quel luogo, ok, quindi non vi posso dire di più, sappiate che se qualcuno di voi volesse partecipare, ok, è un evento che avrà un costo ridicolo d'ingresso, sarà un piccolo workshop dove parleremo anche di tutti questi aspetti e ne parleremo più in profondità, saremo appunto in particolare a bollate, ok, il 20 giugno, quindi chiunque di voi volesse ricevere informazioni può scriverci, ci sono delle persone che lavorano qua, quindi io altra cosa che veramente ragazzi a volte mi sembra veramente di dover dire delle cose che sono scontate però ci sono tante persone che ci rimangono male perché scrivono alla mail e dicono ciao Michele, bella lì, com'è? Ci sono delle persone che lavorano in MB, cercate di capire che c'è una serietà dietro questo lavoro, cercate di capire che ci sono delle persone che si impegnano per dare un servizio utile a voi, per dare un servizio che cambi e possa cambiare la vostra situazione, ok? Non la fuffa che gira, ok, ormai veramente di cui siamo nauseati, quindi anche qua, ripeto, io non vi rispondo alle mail, quindi è inutile che continuate a scrivere ma io pensavo che è Michele, non vi rispondo, ci sono delle persone che lavorano e che lavorano anche per voi, ok? Perché, ripeto, ci teniamo e questo per noi è una missione e un impegno, quello di rendere i progetti sostenibili e aiutare chi ha davvero un fuoco, ok, per la musica a fare di questo una professione e per fare questo ci vuole tempo e ci vuole serietà, ok? Quindi, vi ripeto, io vi invito, se volete ci possiamo vedere il 20 giugno, teniamo magari qualche posto visto che abbiamo dei posti limitati perché la struttura che ospita l'evento ci ha dato la possibilità di allargare e di avere dei pochi invitati privati, ok? Noi abbiamo già una nostra lista ma, ripeto, se qualcuno di voi volesse e magari nei dintorni di Milano nel particolare a Bollate, sappiate che il 20 giugno potete venirci a trovare e potete scoprire di più su questo magico mondo. Arrivederci a tutti!